Signori bentornati con un'altra magica parte del nostro Far Cry 6 Manca ancora tantissimo Farca tuttana alla fine Oddio Comunque un pochettino sto guarendo ma C'ho ancora un sacco di catarro come i vecchietti di 70 anni Però sto iniziando a guarire Sto iniziando a guarire E vi dico già da ora che probabilmente mi vaccinerò Esatto si eh Faccio anch'io la mia parte Dopo che praticamente tutta la popolazione mondiale si è vaccinata Ah vabbè più che altro Non so che altro fare onestamente Non ho voglia di spenderci Bah tipo 60 euro al mese In test per il green pass Per avere il green pass capito Due giorni tra l'altro per andare in palestra Forse è meglio andare a piedi Comunque diciamo ma ragazzi E niente mi devo vaccinare Come fate il cazzo che voglio Non sono il tipo che viene a dire vaccinatevi Cioè avete un cervello Probabilmente vabbè Sto parlando a Vanvera perché sicuramente 99% fra di voi che stanno facendo questo video è già vaccinato Non voglio Oddio Quindi Fate il cazzo che volete Vi dico fate il cazzo che volete Perché il vaccino non è obbligatorio Però Hanno fatto in modo che lo sia Perché Senza green pass Non potete uscire con gli amici In un ristorante Non ho potuto fare un cazzo di niente Diciamo che diventa anche una spesa Nel senso Sto pensando io di fare I tamponi però Porca troia Cioè Se lo paghi 8 euro Sono a sessantina di euro Ogni volta Ma se lo paghi 20 Porca troia 20 euro settimanali 20 no Ogni due giorni Cioè voglio dire È troppo proibitivo Quindi sì Mi faccio iniettare di Di merda e via Ma perché lucky mom È salita fin qua sopra Vecchia Ok Ma dove devo andare Oddio mi sono cagato Scusate Questa è quella che sapete Che forse Stavo già distruggendo Per i cazzi miei Ma seriamente Mi sa che le stavo distruggendo Per i cazzi miei Non potete capire Perché Praticamente Cironzorando la mappa Vedevo che c'erano tipo Vabbè Entrando in tutti gli edifici Vedevo che c'erano Detto questi edifici Anche perché Cercavo i tesori Quali del genere Trovavo questi interruttori E li tiravo così a random E si verificavano esplosioni Ma Oh Boom Quindi alcuni li ho già distruggi Seriamente Oh merda Fatto Prossimo Ah ok Sicuramente devo spostarmi Tra me Ultimo esplodo del tubo Oh vi immaginate che ci sono sopra Che? Che ha fatto? Che ha fatto? Loki, l'ho sentito? Oloviaro ha sentito questo Torniamo per la fase 2 Prendete la planta, seguite la smoke Danny Non ho mai conosciuto questo Danny Il tigre ha matato Lopo E' binga In 67 L'attacco finale Ma Lobo voleva Yara Alla per lui Una volta che hanno preso Esperanza Il suo plan era Per perdere Santos Lobo L'ho avuto tutto L'ho avuto L'ho avuto L'ho avuto L'ho avuto L'ho avuto L'ho avuto Rappeto L'ho avuto La testa L'ho avuto L'ho avuto L'ho avuto E' la vera legenda E' la vera legenda E' la vera legenda E' la vera legenda 301 300 chiamate ogni volta C'è vedi Ci stava il classico E' sopra qua Tipo La ricetta trasmittente Negli orecchio E basta Queste cazzo di chiamate Col telefono Un po' di tecnologia Regia dawm Si imprendi tutto Si imprendi tutto Ilَl'ho avuto Il fredda Il fredda Ma dato non arriva nessuno Posso anche andare Via e via Che basta Ma che verrà Il fredda E' la cosa Potrò Perciò La cazzo Puggerà Non mi Non c'è nessuno tanto, veramente, c'è neanche il pepe al culo Ah, fatto, dai, fatto, fatto, fatto No No No, no, no Oh giù, non gli faccio un cazzo questo Questo mitra Ma qua non c'è nessuno lì, non è possibile No, oh mio dio, gli è passato fra gli ingranaggi Zainetto Eh, crudo, crudo Guardali, guardali Hola Oh, ma guarda un po' Bella robetta questa Ah, così Non so da dover disattivare qualcosa Amici in piedi Mi aiuto Oddio I am pulling your health and dental You can all jump to death on that poison Oh, già, 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 già Watch your move Oh Oh Backpack Che bel soprannome Backpacker Danny Tu l'hai fatto No 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 Allora che mi fa fortuna Però dobbiamo lavorare, in realtà, per il ciccione, per ora Oh, Dio 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 Siamo alla fine praticamente Ci conviene fare questa Perché se dopo questa Ci ritroviamo ad andare a ammazzare McKay Abbiamo finito Cioè perché niente abbiamo finito Cioè oddio finito Per modo di dire Dobbiamo ancora andare a fare le altre Però ci siamo ecco Scusa dove è questa? Proviamo E qui Forza bro Aiuto Mi aspettavo un'esplosione molto più grossa Anche da me sta Questa è la mia ragazza Per farvi a te rinforzare a Castillo's plan Ok? Guarda La vita in questo paese è difficile È un paese La morte è all'inforza La persone stanno soffrendo Tutti è freddo 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 No, io serio ė Quindi dovrei solo accettare l'arresto, l'autorizzazione, l'execuzione. Tutti i mondiali in la storia del mondo ha dei giorni oscolti. La differenza ora è che tutti possono filmare e streamare e cercare che il mondo sbagliato. Anche in mio paese, Canada, andate, guardate quello che hanno fatto con i ragazzi indigeni e i ragazzi di fracchi. Jesus Murphy, ma hey, nessuno è perfetto. Parlare tutto quello che vuoi. Tu non è un invader. Ok, allora, ho fatto due modifichine. Percato allo zaino, perché mi serviva più che altro che riuscisse a trasportare un po' più di munizioni. Ed è ciò che ho fatto, che mi serviva assai sta... Madom, c'è, oh, mi guardalo! Ma dai, che cagata! Allora, ho fatto delle piccole modifiche. Adesso il lanciacanato me ne trasporta 16 totali di colpi, mentre il mitra beve la merda. Ah, giusto, non l'ho messo questo. Gli avevo tolto il silenziatore, ma mi sa che c'è ancora. Borscatra, sono morto, quindi non so cosa... cosa ho salvato o meno. C'è sempre tempo per fare del bene. Salve, signo! No, il silenziatore c'è ancora. Michia, perché mi mando le foto? Ma sono rincoglionito, secondo loro, che non capisco quali sono quelli da distruggere. C'è, boh. Ma quali sono? Cioè, questa del generale l'hanno distrutto, no? Non vedo fiamme. Non so quali l'hanno distrutto. Ah, questi qui. Ok, vabbè, è niente di gara. No. Forse sono questi... Hai rotto il cazzo, ho mai già chiamato prima. No. C'è la stessa identica telefonoza di prima, ragazzi. E' quella identica. Siamo a partire. Vi pass that bull onto the next generation. My parents, they built on it. They gave it to me. So, you want me to move? Ha, well, that would solve my immediate problems, but no, no. You can stay in Yara, but Castillo wants a change here. He does. I talk to him every day. He wants it as fast as you do. Sometimes it is better to swim the current and to go against it. So, I should just accept the arrest. The outcast. No, don't. La storia della storia del mondo ha dei giorni scuri. La differenza adesso è che tutti possono filmare, streamare e cercare di farciare il mondo. Anche nel mio canale, Canada. Guarda, guarda quello che hanno fatto per gli indigeni e il fracchi di Jesus Murphy. Però, hey, nessuno è perfetto! Parla di tutto quello che vuoi. Sei nulla ma un invader. Ah, stai cercando di essere un uccasso. Vediamo dove ti arriva un po' di generazioni. Pensi su quello che ho detto. Vabbè, va a fare un culo il carro armato. Mi scopo che devo rincoglionirmi. Ma non posso prendere direttamente un elicottero e spazzarli via. Molto più in fretta. Mica, è cagata però di... Veramente, è una cagata assurda sto cazzo di... ...di elicotteri. Attanto! Oh, fatto! Sono qua. È un alto vale. Ti facciamo un lavoro completo ormai. Cioè, questo era da distruggere, raga. Seriamente? Non è distrutta. Cioè, era da distruggere. Non ci credo. Però sembrava già distrutta. Tipo, baccato, così. Cazzo ne so io. Ok. Ora... Un po' di piazza pulita al porto. Easy, easy. Guarda, eh. Forse è già da qua l'inizio a colpire. Yes. Cioè, è esplorso a mezz'aria, capite? Che top game. Missili che non arrivano a destinazione. Vai! Vai! Questa cazza di missili. Ok. Eh... Questi due, ma. Non dimmi che è tutto scarico. Raga, è tutto... Ah! I razzi sì, però! Guarda, i razzi sì! Ahah! No, non è vero! Questo mi è piegato un botto a ricaricarsi. Ok. Fatto. Oh, chi mi sta sforando? Dani, ho appena sforzato che sta scavando nella casa, nella sua ufficienza. La piazza è mia! No, dove cazzo è peccato? Vado via. Allooo! No, non è questa la porta. Ma dove cazzo si entra in sto buco di merda? Mmm, ca.o. Soprattutto complicato. Eh, bella mia. Eh, troia! Toh, toh, toh! Come dovrei fare ad entrare qui? Come cazzo fai ad entrare? Oh! Oh, cazzo! Ho una sorpresa per te! Che coda è putta! Ma... Il cazzo di cosa è attivabile! Scusa! Lo zaino! Non riesco ad attivare lo zaino! È carico! È in basso a destra! Guardate! Io spero sia uno scherzo della natura. Cioè... Non si attiva lo zaino, raga! Che figata! Si è glicciato! È carico! Ma si è glicciato! Eh, vai affanculo! Ma è fra un cazzo di culo che devo dire! Come va? Come va? Come va? Come va? Come va? Come va? Sono spazio, quindi... Mierda! Quindi boom! Perché siamo tipo... 30 secondi! Au! Uuuuuh! Va bene, amico! Come... Aspetta! Aspetta, 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 aspetta! Oh! Come va, l'elicotero, guarda! Haha! Mi ha dato una testata! Di aca, mi ha dato una testata! Oh! Oh! Ma come ho con l'esempio? Ma come ho con l'esempio? Ecc- 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 Ha re... Mmm... Ho appiccicato! Cac- Mi ha arrampito, e sembrava tutto più figo! La gioia! Ho alcune buone notizie, il mio piccolo chameleon sulle navi sabatoge l'agente Lei dice che c'è un sacco e un'acqua che viene dall'acqua, non puoi perdere Ha ha ha, tu e i tuoi chameleoni sono f***i ammigliati Lo so, ma non le dicono che... Che una trovoie No, aspetta, posso sedi a bordo Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta, aspetta Toh, merda Abbordaggio Ok, ora dove entrare? Sta lì sulla nave di carico, da dove? Dal buco Eh, se non vedo il buco Qua è questione di... Gradi mancanti, ma c'è qualcosa del cane guida Make him suffer Si non c'è nessuno di cilindri nemmeno, non puoi ridere qui Mi non c'è nessuno di cilindri Mi non c'è nessuno di cilindri Qua è nessuno di cilindri Più che giu Se nemmeno le cilindri Suata Mamma mia Fancuto Guarda 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 No l'ho mancata Merda Sai che se mi fanno sgambetto o cadono Ecco l'ho Eccolo qui 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 Magari mi sarei fallita però l'ho voluto farlo Eccolo qui 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 Guerrilieri Un cazzo Tipo un dieci Eccolo I vicini di quartiere hanno risolto la guerra Vabbè Cioè è risolto la guerra Nel senso Hanno tirato giù I capi I I There are many Who speak Of the Old Revolution Of 67 Like A dream That These Murders Were Heroes They Will Destroy Your Future Just As They Did My Fathers Quando mi guardo nella vostra occhi, vedo i lìoni, libertà, la morale, i muri di 67. Questi sono lì! La verità, sono tutti conosciuti con il stesso nome, Terrorista. Io ho una visione, per riempire il Paradiso, ma questi Terroristas hanno sicurato che il costo del Paradiso sarà lì. Deve essere la ultima rivoluzione, percibiamo la victoria per gli liari! Bene! C***o, spero che tu stessi qui. Ehm, ok. Quindi... No, aspetta. Che c***o? Ah no, ma devo solo andare, la missile è completa, in teoria. Non ho manco un letto qua, c'è scritto a f***o. Yeah! Canadese? Capito, vinciamo di continuo, ma... Viva libertad Ok ragazzi Viva libertad Ciao a tutti